Penso che i genitori adesso hanno paura a far scendere i bambini così, ma è anche vero che c'è scritto comunque vietato giocare al pallone, perché la gente è infastidita, ma no dai la gente è infastidita, è così. Quello ce l'ha scritto anche nei tempi, anzi forse erano più rigidi e intolleranti i torinesi di una volta rispetto ad adesso, su queste cose, sì. Noi avevamo paura dei vigili, i vigili arrivavano, ti sequestravano il pallone. Scusa, allora io sono convinta che se c'è una torma di bambini che sta giocando a pallone in un cortile condominiale, ma al 100% che scendono dei condomini lamentandosi. Sono d'accordo. Ma guarda, sono sicura. Anche quando ero piccola io, però quando hanno appeso il cartello nel mio cortile, vietato che i bambini scendano, non mi ricordo cosa ce l'ha scritto, mia madre è scesa e l'ha stracciato e da quel momento nessuno più ha detto niente. Bravissima, bravissima, di complimento. Però c'era maggiormente il senso di comunità. Ecco, una delle cose più belle che io trovo fuori è quando ancora le signore, le none si mettono soprattutto nel sud, fuori. Vabbè, però questo è stato nel sud, non è che al nord è il sud. Ma anche qui, io l'ho visto nella stile. Ma no, ah beh, nei paesi. Quando io ero ragazzino in via Catania, le mamme scendevano e noi eravamo nel viale. C'era un modo diverso di vivere in comunità, perché anche oggi si fatica. Sì, però nelle città, non è che la gente, ma scusa, io mi ricordo che le nonne si mettessero fuori. Paolo, non si mettevano fuori dall'uscio le nonne in città. Adesso non è che dobbiamo fare questa amarcord che non è così. Ma non è che voglio fare l'elegia. Il vero problema di fondo è che c'è molta più timidezza, molta più paura di stare con gli altri. È molto meno rischioso per una persona vedere la televisione. Vabbè, ma guarda, basta andare sul freddo, ti parli così, c'è il filtro, così non ti confronti. Antonio, cosa volevi dire? Perché il mondo è più insicuro oggi di quanto era nei decenni passati. Poi quando noi diciamo, beh, non si tratta di avere... Lo dice un giornalista che ha fatto cronaca per un sacco di anni, mi preoccupo. No, ma è così, perché questo mondo e le città, tutte le città italiane, non solo italiane, sono più insicure di prima perché la gente percepisce, anche indotta da tutta la propaganda che si fa tutti i giorni, ti martellano. Antonio, dimmi tu che sei un addetto ai lavori, cioè è una questione di percezione o una questione reale. È una questione di cambiamento del mondo, perché è cambiato tutto, perché oggi ognuno sente l'altro come, chissà, mi posso fidare, non mi posso fidare. Cioè, quando noi parliamo di immigrati adesso, noi una volta parlavamo di immigrati ed era la gente che veniva da Lecce, da Foggia, da Sciacca, dalla Toscana magari. Oggi gli immigrati sono solo gli estracomunitari. E quindi bisogna capire che oggi l'immigrato, questo immigrato, è percepito come un diverso... Quindi è una questione di percezione. Non so se Fogola è d'accordo, è una questione di percezione. Scusa un attimo, la città di Torino è la terza città meridionale d'Italia, nel senso che qui l'80% delle persone viene da fuori. Sono meridionali, sono veneti, sono triestini, sono giuliani, eccetera. Tutto questo ha portato negli anni a un'integrazione di culture, di interessi, per cui io non ho paura del triestino. Certo, se mi viene... Beh, però adesso sta succedendo... Sta succedendo la stessa... Adesso sette persone su cento sono straniere in Piemonte e poi non parliamo dell'aumento delle nascite, eccetera. E questo, voglio dire, poi nella realtà, nella concretezza della vita di tutti i giorni, c'è molta più autenticità, scambio, accoglienza di quello che non ci vogliano spesso far credere. Cioè, perché dici poi nella realtà c'è più integrazione di quello che si va... Va a periodi storici. Io vengo da un paese... Scusi, non volevo interrompere. Vengo da un paese che si chiama Torre Maggiore, dove è nato Nicola Sacco, Sacco e Vanzetti. Quando sono andati all'inizio del secolo, l'altro secolo, in America, trattavano gli italiani esattamente come molti, ma molto peggio di come trattiamo gli immigrati adesso. Perché su una legge i tomi del processone, l'astio dei giudici, l'astio dei poliziotti, erano dei selvaggi che arrivavano in America e poi hanno fatto loro l'America, perché quell'America che noi vediamo l'hanno fatta i moldavi, i serbi, gli italiani, i greci. Allora, tutto questo vuol dire che il mondo è cambiato in modo tale che noi ci dobbiamo fare, abituare alla multietricità, alla multicompressione, al multiculturalismo. Però c'è il problema ovviamente della sicurezza, ma non dobbiamo nemmeno esagerare come fanno i media, un giorno sì, un giorno no, a dire ecco, il pericolo, il pericolo, il pericolo, questo è il punto.